C'è questo carattere qua che è in un pezzo molto, molto, molto importante. Noi ci mettiamo l'anima sempre per farlo, perché noi lo sappiamo, non c'è più, però è successo una cosa, un ragazzo di 37 anni che conosco da, dal 96, quindi ne sono passati un bel po', cantava fino ancora all'America, nel suo tributo, faceva l'Ida ed era uno dei gruppi più conosciuti in Italia, si chiamano ancora Scherze Sparse, era un ragazzo nano, così, ma aveva un cuore che era grosso cento volte e un'anima quando cantava che era al pari, non aveva bisogno di scignottare col fisico imitando Luciano, perché aveva la voce, aveva la voce della stessa passione da dentro. E, tornata a casa, domenica suonata, un'attività, tornata a casa, dopo pranzo aveva mal di testa, penso, non ha Gesù, una cosa banale, non aveva problemi, non aveva cose strane, non so più svegliare. Io ho saputo questa cosa il martedì notte, perché amici con noi, i messaggi dopo le prove mi hanno dato delle notizie che non ci potevo credere. e, ieri mattina, ieri mattina sono andato al funerale, mi sono permesso a Viena, e c'era davvero tanta gente in tutta l'età che era male, quindi, non so che sto urmando, si era detto di non farlo, non so che sto urmando del tempo alla musica, però, questa volta, Giangelo, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione